Siamo lotati in Gesù e Maria? Sempre che sia lotato! Anche questa domenica prosegue il discorso di Gesù sul pane vivo risceso dal cielo, fratelli e sorelle carissimi, diciamo che è la terza e l'ultima parte in cui Gesù continua a farci riflettere su questo mistero, oggi aggiungendo dei tasselli ulteriori, diciamo gli ultimi a questo lungo discorso, che ci offrono l'occasione per alcune ultime considerazioni, in attesa di sentire domenica prossima l'esito drammatico che questo discorso ha prodotto. Lo sentiremo domenica prossima. Finito questo discorso, Gesù si è giocata larga parte dei discepoli di Abrema. E questo ci fa anche riflettere, anche se lo approfondiremo nella prossima circostanza, che quando si deve dire la verità non bisogna avere paura delle conseguenze a volte non positive che quello che diciamo potrebbe avere, perché chi non è d'accordo con la verità o chi resta in qualche modo scandalizzato, evidentemente poi prende i dovuti provvedimenti. Ora però, prima di dicere, questi hanno reagito male, anche i giudei, abbiamo sentito oggi, che si misura a discutere assolutamente, dice il Vangelo, come può costruitarci la sua carne da mangiare. Proviamo un attimo ad immaginarci, perché per noi è tutto relativamente facile, no? Noi sappiamo già che Gesù non intendeva, scusatevi dal paragone, che si prendesse a musica il suo corpo, no? Ma era il mistero dell'Eucaristia, che avrebbe istituito come suo, però vero corpo e vero sangue. Prima domanda da farci. Io tra poco salgo all'altare e dirò, questo è il mio corpo, non sono io a parlare. Voi capite che questo è il mio corpo, non è che il compagno diventa il corpo di Don Leonardo. Cioè, avete mai pensato a questo? Se io uso l'espressione, questo è il mio corpo, chi è che sta parlando in me, quando io sono santo? Qualcun altro, no? E quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo, non così, ma realmente. Quel po' di vino diventa il sangue di Cristo, non così, ma realmente. Noi non lo vediamo con gli occhi, e ringraziamo anche il Signore, no? Perché immaginate se la trasformazione reale fosse anche percepibile ai nostri sensi. Cioè, se quando fai la comunione, tu sentissi il sapore della carne di Cristo, del sangue di Cristo, come in alcuni santi è accaduto. E come è successo in alcuni miracoli eucaristici, noi anche quest'anno siamo stati i pellegrinaggi a parrocchiare a Bolsena. L'anno prossimo, o in qualcuno dei prossimi anni, abbiamo uno ancora più significativo, che ha lanciato, dove c'è ancora visibile, da 1200 anni, un pezzo di pane diventata carne di Gesù, analizzata, è un pezzo del cuore, un pezzo di pericario, che tra l'altro ancora al microscopio fa il modo sistolico e diastolico, ci sono dei movimenti in quella ostia diventata carne. Quindi, se uno non ci vede, spiegasse questo miracolo eucaristico, insomma, no? Ecco, però, noi ci crediamo, numero uno, cerchiamo anche di comprendere, perché lo scandalo che ebbero i tredi può essere lo scandalo nostro. Tu ci credi veramente che sull'altare c'è Gesù Cristo? Io dico sempre che ci credi veramente a questo che succede e non va ammessa, o come vedremo subito, non si prepara bene e non usa bene la santa comunione. Non ci sta tutto con le rotelle perdonate, insomma, capite? Le persone che interimizzano un grande amore all'aparistia non lo fanno per forza. Voi sapete che la Chiesa ci raccomanda sotto fine di peccato grave dell'Ammessa la domenica, ma i primi cristiani l'Ammessa ci andavano tutti i giorni senza bisogno di nessun fucile, senza bisogno di nessun comandamento, capite? Perché erano talmente contenti, dicevano, io mangio tutti i giorni. Sì, e la mia anima non sarebbe bene che mangiasse tutti i giorni, che c'è Gesù in persona che si dà in gioco a me. E se c'è stato quello che comincierebbe la vista, mi piacevano, non lo faccio. Non era no, capite? Perché quando una persona ci crede sul secchio, io lo dico, ma non lo dico per... Cioè, io non ci potrei stare un giorno senza messa. Non è mai successo da quando sono prete che stessi un giorno senza... Neanche quando ho gioco un'altra di febbre. Io ho sempre febrato. Ma non perché sono virtuoso, ma perché non ci posso stare, capite? È impossibile farne a me, capite? Allora, questa prima domanda è una provocazione, ma io ci credo sul secchio. Poi Gesù dice alcune cose, alcune molto forti. Dice, guardate che se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Non è la vita biologica, perché la vita del nostro corpo, il nostro cuore batte, anche senza che ci facciamo la comunione, capite? Ma è la vita interiore. Io ci credo, veramente, che nell'eucaristia in Gesù c'è la soluzione al problema della depressione, dell'ansia, dell'angoscia, dell'insoddisfazione di tutte le cose, le sofferenze interiori che sono molto più gravi dell'esteriore e che mi porto dietro. Ci credo, e Gesù lo dice, se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita, ripeto, non la vita biologica, ma la vita con la puma i uscola. Adesso le persone incumbrano, dicono, io adesso non posso dire dall'angone, che dicono, che brutta vita, a volte dicono anche che vita, epitetando queste espressioni con, come dire, con un attivuio di un pochino con il carri, no? Diciamo soltanto che brutta vita. Oppure, quando uno è felice, dice, che bella la vita. Ecco, in questo senso, se non fai la comunione, la vita non ce l'ha. Non sono. Se non fai bene la comunione, non parteciperai alla risurrezione gloriosa dell'ultimo giorno. Immangia la mia carne, bebe il mio sangue alla vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Voi sapete che l'ultimo giorno, come diremo nel credo, c'è la risurrezione dei morti, ma ci sono due tipi di risurrezioni. C'è una risurrezione per la gloria e c'è una risurrezione per la condanna eterna, perché il inferno purtroppo è eterna, non solo per le anime, ma anche per i corpi che risusciteranno per stare nei tormenti per tutta l'eternità. E' brutta cosa, insomma, oggi o domenica non bisognerebbe parlare troppo di queste cose, però questa è una verità di fede. Ecco perché prima di morire la Chiesa dà l'ultima comunione che si chiama il viatico, perché tu ricevi quella comunione come pegno che risusciterai di Gesù per la gloria. Capite? Anche su questo noi ci rivediamo? Punto interrogativo. ultima cosa che Gesù dice chi mangia di bene viverà per me, solo chi mangia di bene verrà per me, cioè se tu fai bene la comunione la tua vita sarà una vita spesa nell'amore a Gesù e nell'osservanza dell'angelo. Allora, e qui ultimi tre minuti di Omedia, tu puoi dire che la tua vita oggi è spesa veramente per il Signore che cerchi di osservare bene il Vangelo tutto, come diceva San Paolo usi bene il tuo tempo, usate bene il tempo, è l'uso più santo del tempo, è quello che dedichiamo al Signore, non solo nella messa, nella nostra formazione personale, nell'ascolto della sua parola, nel lato di chiede, vivi così, no, forse, ma tu ti fai la comunione a tutte le domeniche, se tu ti fai la comunione a tutte le domeniche sui ceddi, ti mangia di me, vivrà per me, quindi, sono due le cose, o Gesù mente, non è vero, faccio la comunione, ma, d'accordo, non è che poi non vivo sempre proprio bene il Vangelo, al 100%, eh, chi di noi vuol mettersi davanti al Vangelo e direi ci sto al 100%, allora che succede? Non funziona la comunione o non funziona qualche altra cosa? Capito? E qui, ultime riflessioni, voi sapete che la comunione funziona ad alcune condizioni però, ci sono due condizioni e due che funzioni la Santa Comunione, la prima è che devo stare in grazia di Dio, se io faccio la comunione senza stare in grazia di Dio, e attenzione, devo stare in grazia di Dio, non dipende dal fatto che io mi sento a posto, dipende dal fatto che io sono a posto con i dieci comandamenti, dal primo al decimo, tutti e dieci, come la Chiesa insegna nel calechismo della Chiesa Cattolica, compreso delle cose che nella coscienza comune, a volte anche di alcuni fedeli, non sono reputati in peccato, ma se io mi faccio la comunione e sto in uno stato di disordine, grave, nei confronti di qualcuno dei due comandamenti, non solo che quella comunione non mi fa niente, quindi io lo riprovo per Gesù, ma farò un peccato gravissimo ad accostarmi alla comunione in quel modo, perché la comunione sacramentale, come insegnavo di padri, è vita per chi sta in grazia, è velevo per chi si apposa accostarsi senza essere in grazia di Dio, questa è la prima cosa, ma perché la comunione produca tutti quanti i frutti necessari, non basta neanche questo, la comunione bisogna farla bene, farla bene significa prepararsi alla Santa Comunione, non andare così, prepararsi interiormente con la preghiera, io per esempio ho sempre insegnato agli credenti, la preparazione migliore alla Santa Comunione è ascoltare bene la Santa Messa, ma la Santa Messa si ascolta dall'inizio e si ascolta dall'inizio alla fine, io anche a una comunità dove sta, insegnavo, vedete, la Messa si arriva 5 minuti prima di cominciare la Messa, perché è brutto arrivare la Messa già inizio, cioè, se io ho il suo non voglio fare una comunione, cioè, devo staccare un attimo la spina, e, mi metto un attimo saluto, faccio il Signore della Croce, mi metto alla presenza del Signore, dico, beh, adesso stacchiamo la spina, ci prepariamo a ascoltare la Messa in tutte le sue dimensioni, l'omenia, la confessione di fede, il sacrificio e poi la comunione, questo bisogna farlo bene standoci con la testa, fatta la comunione, voi, che faccio? Poi chiedete, chiediamoci sempre, perché il momento della comunione di Santi non è insegnato, io per questo, voi sapete che nella liturgia, e questo lo fa anche il Papa, e lo hanno fatto Leonardo, lo dovrebbero fare in tutte le chiese, ci sono due momenti di silenzio prescritti dalla liturgia, uno un po' più breve e uno un po' più lungo, lo sapete quando sono il primo dopo l'omenia, andate in Vaticano, guardate le cellulezioni del Papa, si siede e fa un silenzio molto più lungo di quello che faccio io, io me lo so contato l'ultima volta che sono andato, sono andato due volte a sentire il Papa recentemente, almeno un minuto di silenzio, a che serve quel silenzio? Che io mi rifletto un attimo su tutto quello che ho sentito, tra parole di Dio, e di homilia, faccio un attimo di sintesi, e poi un silenzio più lungo quando, dopo la comunione, per darti la possibilità personalmente, appena c'hai Gesù nel cuore, di parlarci un po' meno come di ringraziarmi, la comunione non è una caramella, voi immaginate che Gesù entra dentro e dite ma tu che gli dici a Gesù? Cioè, capite? Questo è un piede, anche a me, come ti relazioni, gli dici qualcosa, oppure fai la comunione e ti metti a pensare con la testa per aria? Quella comunione fatta così, per carità, lui ha fatto la comunione, ma quali effetti produce? Cioè, Gesù è contento secondo voi se entra in un cuore che non gli dice manco, grazie che sei avuto Gesù, voglio tanto bene, almeno questo, almeno se vogliamo lì, non è contento Gesù, capite? Cioè, uno che ha dato la vita e che si dà in questo mondo, che trova un cuore freddo o indifferente, o che sta a guardare un orologio perché speriamo che il prete si sbriga e che esco presto, non è il vostro caso, sto parlando tanto in un discorso che non voglio offendere nessuno, in generale, tanto per dire, quale effetto produce quella comunione? Allora, se le comunioni non producono questi effetti nuovi, cosa significa? Non che Gesù non c'è, ma che io non sono ben disposto. Allora, anche il modo con cui io mi accosto alla santa comunione deve essere oggetto di esame di scienze, il modo interiore e il modo esteriore, la carne, il fermarsi, io dopo la santa messa lo dico non per farmi bene, ma, cioè perché un sacerdote deve anche dare l'esempio, io mi fermo davanti al tabernacolo almeno un quarto d'ora, i fedeli sanno, se mi vuoi parlare, aspetti dieci minuti che prima ringrazio il Signore e poi sono tutto ma non si può non fare questo qui perché come faccio con Gesù nel cuore io fortermi a parlare con un'altra creatura oppure uscire e cominciare a pensargli a fare niente? è evidente che in questo modo vanifico in tutto in parte gli effetti santificanti della comunione capite? non basta capite? è un dono grandissimo che il Signore ci fa che richiede disposizioni adeguate per essere ben accolto e per produrre grandi frutti di santità in noi questi sono contenuti nella maestria ma bisogna vedere il terreno che trovano nelle nostre anni bene chiediamo Maria Santissima che ci aiuti a fare bene le nostre sante comunione a prepararle bene a viverle bene e a farle fruttificarle i nostri cuori la Madonna certamente è una grande risorsa per fare bene alla Santa Comunione è bene anche affidarsi a lei per chiederle di aiutarci trasmettendoci in qualche modo alle sue disposizioni nel ricevere Gesù di aiutandoci ad avere un cuore grande e innamorato come il suo per dirgli il nostro grazie e tutto quello che Lui desidera che gli diciamo quando lo abbiamo nel cuore siano notati Gesù e Maria sempre sia notato e l'innamorato come il nostro e l'innamorato come il nostro e l'innamorato come il nostro